FTE Green è il corso di fisica per il primo biennio dei licei scientifici e dei licei scientifici delle scienze applicate, di Mara Masini e Sergio Fabri. L'opera si presenta con una veste del tutto nuova, completa e aggiornata, proponendo i contenuti in modo semplice e intuitivo. Scopriamo insieme l'opera e le sue caratteristiche. Prima caratteristica, una didattica potenziata e più green. L'opera, aggiornata, prevede l'ampliamento e il potenziamento degli argomenti, con una specifica attenzione ai problemi ambientali e alla transizione ecologica. In apertura di ogni modulo sono presenti le schede della Green Physics per il cittadino, dove ogni argomento si lega agli obiettivi di sostenibilità, che vengono poi declinati in problemi specifici e compiti di realtà in chiusura del modulo. Seconda caratteristica, più rubriche per una didattica completa. L'unità Matematica per comprendere la fisica, a inizio volume, illustra gli strumenti matematici indispensabili per comprendere la disciplina. Ogni apertura di unità presenta una rubrica speciale, Le frontiere della fisica, dedicata alle applicazioni della fisica e alle ultime scoperte in campo scientifico e tecnologico. Le schede fisica e realtà sono dedicate alla fisica della quotidianità, mentre Matematica e linguaggio della fisica offre spazi di approfondimento di carattere matematico. I box Ricorda e, in English, a lato dei testi, propongono regole, definizioni e piccoli schemi riassuntivi, anche in inglese, per memorizzare più facilmente le informazioni. L'inclusività è un aspetto chiave del volume. Le mappe, fissa le leggi e i concetti e il fascicolo, la fisica per tutti, con font ad alta leggibilità, aiutano gli studenti nell'apprendimento e nella comprensione delle informazioni, promuovendo una didattica che mira al successo formativo di tutti. Terza caratteristica, una didattica applicata ai problemi. Grande rilievo è dato anche allo sviluppo del problem solving nelle attività, che insieme allo svolgimento di esercizi esempio, presenti nel percorso risolutivo, guidano gli studenti nella gestione del problema, mostrando come si imposta correttamente il ragionamento. È presente inoltre un ricco eserciziario che propone test vero-falso, quesiti a risposta aperta ed esercizi di completamento, insieme a verifiche interattive accessibili tramite QR code. Gli studenti hanno a disposizione anche problemi trasversali organizzati su tre livelli di difficoltà, resi evidenti da pallini colorati che ne indicano il grado di complessità. In più, le schede preparati alla verifica, con test scelta multipla e problemi, come supporto al ripasso degli argomenti trattati nell'unità. A corredo dell'opera, il volume è FTE Green Laboratorio, con numerose proposte di carattere sperimentale. Il corso completa l'offerta didattica con un ricco corredo digitale, per facilitare l'apprendimento in ogni modalità. A supporto dello studio, FTE Green propone inoltre l'innovativa web app Albert, che grazie ad una modalità giovane e smart, stimola i ragazzi a interagire con le principali nozioni della materia, attraverso giochi ed esercizi mirati sviluppati in chiave ludica.